La tecnica della scala è un intervento tanto semplice quanto potente da utilizzare all'interno di una seduta di terapia. Sostanzialmente si basa sull'idea di chiedere alla persona di valutare su una scala da 0 a 10 dove si trova rispetto a quel problema, a quella situazione, a quell'obiettivo, eccetera. È abbastanza facile ma non semplice perché può raggiungere dei livelli di complessità enormi e essere usato in diverse situazioni, per diversi obiettivi, in diversi contesti e così via. Potremmo fare 10 video e non aver fatto ancora una spiegazione sufficientemente ampia di come può essere utilizzata la tecnica della scala, però qualche idea la possiamo tirare fuori. Io ne tiro fuori 3 idee, 3 modi di utilizzare la tecnica della scala in seduta. Se te ne vengono altri puoi mettere qui sotto nei commenti e poi facciamo un enorme database di tutti i modi in cui utilizzare la tecnica della scala. Innanzitutto il modo più classico in cui viene utilizzata è quello di chiedere alla persona di misurare i progressi che sta facendo. In questo senso viene utilizzata classicamente dopo la prima seduta, in una delle sedute successive o dopo lo sblocco del problema, per valutare da 0 a 10 dove si trova, idealmente a 10 dovete arrivare, e 0 dove si trovava prima di venire da noi. Ecco, già come definisci il 10 e lo 0 ha delle implicazioni molto importanti e interessanti perché cambia un pochino la prospettiva. Io per esempio definisco il 10 come il momento in cui non avrai più bisogno di me o in cui ti sentirai abbastanza in grado di proseguire da solo. Preferisco dire così e non dire che 10 è il momento in cui la persona avrà completamente risolto il problema perché voglio darle l'idea che può proseguire, andare avanti anche senza bisogno di me fino alla fine. Una volta che la persona si è collocata su un gradino della scala puoi fare diverse cose. Ad esempio le puoi chiedere che cosa deve fare per salire di un gradino più in su oppure che cosa noterà nel momento in cui si troverà un gradino più in su. Sembra la stessa cosa ma sono due domande molto diverse. Se le chiedi che cosa deve fare sta implicando un suo ruolo molto più attivo, cioè che lei dovrà fare delle cose per salire un gradino più in su e che ti aspetti che lei sia in grado di farle. Se invece le chiedi che cosa noterà nel momento in cui sarà un gradino più in su, le stia chiedendo un ruolo più passivo, di notare quali saranno i cambiamenti che avverranno spontaneamente nella sua vita. Sono delle sottilezze ma in realtà sono molto importanti perché a seconda della persona che hai di fronte può essere più utile in certi momenti o lungo tutta la terapia utilizzare l'una o l'altra formula. Ci si potrebbe tornare su in un altro video perché è molto interessante esplorare questa implicazione. Se ti va, dimmelo che ci torniamo su. Un secondo modo per utilizzare la tecnica della scala è quella di chiedere alla persona dove si trova, su quale gradino, per poi andare a esplorare come ha fatto ad arrivare lì. In questo senso lo puoi usare fin dalla prima seduta perché ti permette di andare a individuare tutte le risorse della persona che le hanno permesso di arrivare a quel gradino e di rimandargliele. In pratica se una persona ti dice mi trovo a 3 sul terzo gradino, puoi iniziare a chiederle ok, come hai fatto per arrivare a questo gradino, che cosa hai messo in campo per riuscire a stare qui, in che cosa sei stato in grado di portarti avanti fino al 3 e non di stare più in basso. In questo modo la persona inizia da un lato a vedere quello che ha già fatto per riuscire a salire i gradini e per stare a quel punto e si rende soprattutto conto di essere in grado di farlo. Un terzo modo per utilizzare la tecnica della scala è quella di spezzettarla in più sottoscale. Ad esempio se la persona ti dice che lei arriverebbe a 10 nel momento in cui avrà raggiunto un successo lavorativo, sistemato la situazione col partner e ripresa a fare tutta una serie di hobby, puoi chiederle di dividere in 3 sottoscale la sua valutazione. Questo è molto utile per dividere un macro obiettivo in diversi micro obiettivi così che la persona peraltro si possa rendere conto degli avanzamenti in diverse situazioni e poi magari si rende conto che in alcune sottoscale è molto più in alto rispetto ad altre. Queste sono davvero delle idee di base su come utilizzare la tecnica della scala. In letteratura ne trovi tantissime, a dozzine, soprattutto nella letteratura specifica della terapia breve centrata sulla soluzione che probabilmente è la forma di terapia breve che più di tutte utilizza la tecnica della scala. Lo scopo principale ovviamente non è quello di avere una valutazione oggettiva della situazione della persona, ma più una valutazione soggettiva per sapere dove si trova rispetto a un futuro desiderato, che cosa ha fatto per arrivarci e che cosa può fare per fare un gradino in più.